Ehi ragazzi come va? Io sono Steph e questo oggi giocheremo a venerdì 13! Steph cosa stai facendo? Beh mi hai detto che non dovevi giocare quindi sto facendo il video Sì ma ovviamente devo commentare secondo te mi perdo Jason Che deve uccidere tutti nel minor tempo possibile Secondo te me lo perdo Steph? Beh pensavo di sì mi hai fatto dai Steph gioca da solo oggi Tanto è Jason ho fatto ok sarò da solo che bello finalmente mi faccio il mio primo video da solo Ammazzo tutti velocissimo e divento strafigo Faresti schifo a fare un video da solo Può essere Ehi ragazzi come va? Io sono Feri Niki E sono Steph e questo giocheremo a venerdì 13! E torniamo qui su venerdì 13 questa volta con un nuovo obiettivo fantastico Cercheremo di uscire tutti ovviamente nei panni di Jason in soli 5 minuti Non sappiamo se sia possibile ma ci proveremo Nel mentre un tizio ha urlato e mi ha ucciso un orecchio Comunque sì abbiamo fallito a scappare in 5 minuti anche se ci siamo andati davvero vicini E ci vogliamo riprovare un altro video Sì sì assolutamente Però questo è oggi nel mentre vediamo se ci riusciamo con Jason La cosa più difficile sarà trovare delle partite dove capiterò come Jason Quindi penso che questo video durerà circa 3 ore e mezzo Però ci vogliamo provare e vogliamo vedere se è possibile Stacchetto! 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 No! Cambio partita Steph! Cambio partita! Hello! 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 I'm Jason! Non sarai Jason Steph! Ora che l'hai detto hai portato sfiga Lo sarò E non lo sarai mai! Lo sarò sempre comunque Guarda Storm ha abbandonato non ha però detto che sono Jason perché ha avuto paura Sì sicuramente Ha detto no 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 Steph il magnifico Jason no no troppo troppo scappo via e vado a giocarmi un'altra partita Se è Stacchetto sono io Eh no mi sa che è quello che nuota Eh vabbè però lo dovresti vedere Guarda Ecco qua Abbandona la partita Ecco qua Abbandona la partita E siamo già a due Per favore Per favore Facci capitare a noi Jason ti prego siamo qui già da non so quanto tempo Fai capitare Jason Stacchetto Vediamo Jason Stacchetto Siamo di nuovo in acqua No 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 aspetta Aspetta no Dai 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 Sono io Non te ne va bene una oggi Steph Non te ne va bene una Sacchetto 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 Ok aspetta però potresti non essere tu eh Sono io Voglio la conferma Sono io Voglio la conferma L'unico inimitabile Sono io È arrivato il mio momento Dai È arrivato il mio momento Ok Sì Allora 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 Dovete sapere una cosa di questo Jason Ovvero Che ha più trappole di tutti gli altri Jason Di conseguenza La mia prima mossa sarà andare a mettere trappole in tutti i punti importanti Allora ci prendiamo subito a questa bella macchina e mettiamo un po' di trappole Ne mettiamo una qua per la batteria come giusto che sia E ne mettiamo una dove si mette invece la benzina che è qua Fere o è dall'altra? Eh no forse è dall'altra Ok Ah giusto devo avviare il timer Fere Mi sono dimenticato Ok vai via 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 Veloce Mi sono dimenticato Ok avviato 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 Ok Allora a questo punto poi io ne metto una anche qua Che ci sta Che ci sta Dopodiché andiamo nella zona della barca E facciamo lo stesso E ne mettiamo qualcuno anche qui Qua si è chiusa chiave Qua si è chiusa chiave L'ho appena sentito chiudersi a chiave Quindi Sondiamo immediatamente la porta Lo vediamo? Eh sì 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 C'è una persona dentro Ma donnazione ma quanto ci mette questo personaggio? Eh tanto Allora Vedi Fere come fanno Vedi Loro mi provocano Loro cercano di farmi arrabbiare Sfruttano il fatto che tu sei lento a distruggere la porta E ti danno una macchina in testa Spiegami dove vuoi correre Spiegami che cosa vuoi Non ho ancora il potere Non ho ancora l'altro potere Vieni qui Mi dispiace Vieni qui Non ti permettere Torna qua Sta entrando in quella casa? Sì Sta entrando in quella casa Sì 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 Ok 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 va bene va bene va bene va bene Ho capito come vuoi giocare questa partita L'ho già capito E sono pronta a divertirmi insieme a te Allora Questa finestra Te l'ho rotta E quindi questa è andata Qui non c'è altro E direi Devi cercare di entrare in casa Sì 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 Tranquilla tranquilla Questa volta io non ci casco E appena tu provi a darmi il colpo No non posso farci nulla Perché sei ancora nel momento dell'animazione E invece ti può colpire Però non ha una finestra da dove scappare E beh sì perché se esce da questa si graffia e si fa male Quindi diciamo che non è l'idea Forse c'era una finestra qua Dannazione non ci posso credere Mi sta facendo già perdere troppo tempo Dov'è la signorina? Dov'è andata? Dove stai andando? Vieni qui È entrato in un'altra casa Guarda anche lì davanti a me Hai visto? Sono tutti in questa zona E gli ha lasciato la porta aperta Sono tutti in questa zona Aspetta che andiamo a fare Guarda Vai 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 Guarda La vedi? La vedi la vedi la vedi? Guarda sì Ok 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 Signorina Dove vorrebbe andare? Allora io potrei capire dove vuole andare Ovvero in questa casa E anticiparla Anticiparla Ok Eccola 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 Hanno tirato dei petardi Hanno tirato dei petardi Li schivo E ecco anche qualcuno dietro Fai attenzione perché ti potrebbe colpire Ah non l'ho colpita peccato Diciamo che stanno giocando davvero bene loro Stanno giocando bene Infatti mi stavo domandando Perché quando giocano con noi Si fanno ammazzare tutti in due minuti Lo vorrei capire anche io Fede Tra bravi che riescono a scappare Cioè in modi assurdi Allora Qui signorina non ha chiuso la chiave Ha fatto un errore terribile Sarà sotto qualche letto? No no Sta scappando adesso dalla finestra Vedi? Ah eccola E vabbè E vabbè Tu pensi di essere furba Ma io so che tu sei andata qua E questa volta ti acchiappo Questa volta Ti acchiappo Non puoi scappare Sono troppo veloce Ah finalmente Finalmente Alleluia Schiatta Numero 1 andata Qui dentro c'è ancora qualcuno Sì anche secondo me Guarda guarda E almeno questa porta La posso sondare in fretta Quindi almeno qua Finalmente almeno una porta Di andare a vedere Allora Qui teoricamente c'è qualcuno Chiusa chiave dentro Fere Dici Eh segna che c'è chiusa chiave Quindi ho uscito dalla finestra O è qui dentro Eh sì 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 Vedi la finestra quindi Mi ha fatto perdere tempo Eh sì E ti spacco la finestra Così Non puoi più farlo Allora Qui dentro Hai visto? Eh sono in tre Hai visto? Bella Ma sono dentro o fuori Secondo te? Secondo me sono dentro la casa Forse sono fuori Sono molto lontani Forse te li ha fatti vedere Molto lontani No 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 Nel caso sono qua vicino Fuori Allora Eccoli sì Vero? Se li vedi? Ok Questa zona è qua Ok Allora noi facciamo così Teoricamente Compariamo vicini a qualcuno Facciamo in questo modo Così Così Buongiorno signorine Come state quest'oggi? Lei è al flare Quindi devo stare attenta Però le sto raggiungendo Perché sono abbastanza lente E stanno iniziando a panicare Quindi Se adesso non si difendono Uno Due Tre Non sparare Quattro Cinque E quanto ci mette? Ok L'altra è quella che ti dà sempre le botte Sempre La sto odiando La sto totalmente odiando Però Se la gioca bene Siamo a due Signorina Le sto spaccando tutte le finestre stavolta Come vuole fare? Eh si dovrà ferire un po' Si potrebbe comunque lanciare E accettare di prendere un po' di danno Eh però in quel caso andrebbe via lenta Allora Occhio che ti rifà sempre la stessa tecnica Steph Ti vuole ricolpire No 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 Vedi? Ti ha messo la trappola Sì Ha messo la trappola Ok Credi di fregare Noi siamo gli esperti Delle trappole E ora che fai? Ora che fai? Come te la vuoi giocare amica mia? Ok Vedi vedi Accetta di prendere un po' di danno Va bene va bene va bene Ma io adesso torno indietro Teoricamente lei è un pochettino più lenta Facciamo così Ci avviciniamo Eh cavolo Steph L'ho colpita Ok colpita Vai adesso è lenta Ma cosa volevi fare? Ma cosa volevi fare? Ma dimmi te Non ci provare mai più Non ci provare mai più È la più problematica Quindi è stata Diciamo una buona cosa farla fuori Ma che ho fatto? Quella è ferita e ha la batteria C'è rimasto malissimo Steph C'è rimasto malissimo Malissimissimo Malissimissimo Allora Allora Aspettate che vi devo insegnare un po' di cose qua Dove sono scappati? Una è andata qui dentro È dentro la casa Sì dentro la casa Sì Ok Allora qua ho bisogno di mettere un'altra trappola Comunque non è possibile che posso mettere due trappole di fila qui Perché quella lì ha provato a mettere la batteria Si è beccata la trappola Eh poverina certo certo La vedi? Piano di sopra Piano di sopra Sì 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 È fregata Piano piano È qui dentro Sì è qui dentro Non può scappare Non ha modo di scappare Perché in queste casette qui non ci sono No ci sono le C'è? Sì Steph Ci sono le finestre ti puoi lanciare Davvero Anche se fai un volo però prendi un po' di danno Sai che non lo sapevo Non l'avevo mai provato Non l'avevo mai provato Mi è capitato di lanciarmi poi da quelle finestre Quindi si può fare Interessante Ho imparato una nuova cosa Comunque abbiamo fallito miseramente i cinque minuti C'è da dire che sono abbastanza bravi Però Allo stesso tempo Mi viene da pensare che sia impossibile A meno che loro non siano totalmente scarsi Mi sembra davvero impossibile Eh cioè a meno che non sbaglino proprio tutto Quindi non provino neanche a difendersi Perché sto notando che poi Jason ci mette tanto tempo Ad esempio anche a spaccare le porte Ma questo qui è questo Jason col piccone Che è davvero scarso a distruggere le porte Eh lo so però Anche gli altri Non è che lo fanno in due secondi Quindi già quello ti fa perdere un po' di tempo È difficile Cioè loro giocano sempre ad andare da una casa all'altra Quindi capito Ti fanno perdere tanto tempo Eh signorino Signorino Ti ho preso proprio al volo No ok non mi puoi interrompere Addio Non mi sparare Oh mancato Vai fallo fuori Oh cosa hai mancato caro mio Questo è per aver Ha raccolto l'altro fucile E mi ha risparato Alzati Alzati reagisci Ok Amico mio sei ben ferito Mi sa che non fa in tempo a scappare Mi sta parlando Mi sta parlando Però Non ti perdono I can't pardon you Non è È for you Lo so Ho vinto Ma che succede? Ho già vinto? E beh forse alcuni Sì Sì Quanto ci abbiamo messo alla fine? Nove minuti Nove minuti Sono fuggiti Sono fuggiti evidentemente Sì sta Con la barca? Non lo so Può essere però Con la polizia Avevano chiamato la polizia Sì però poi non mi segnava i minuti Non ti sei accorto Non mi segnava proprio i minuti Di quando sarebbe arrivata Ho fatto una figuraccia Pensando di fare 5 minuti Ho fatto una partita terribile Sì esatto Non ti sei accorto di Hai fatto fuggire Terribile Direi che è davvero 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 tosta Non so se è fattibile Cioè te l'ho detto Secondo me se trovi dei player proprio scarsi Per essere scarsi Sì Magari ce la puoi anche fare Però se se la giocano Anche solo a girare intorno in delle case 5 minuti per ammazzarne 8 Sono davvero troppi Quindi Non credo che sia fattibile In ogni caso ci abbiamo provato La fuga Riusciremo a farla Ve lo promettiamo In 5 minuti Ce la faremo assolutamente Però con questo Ci rendiamo Per essere pronta Capito il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi le altre visioni Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao